Tutto è cominciato da un grande sogno Unire le intelligenze per mettere l'automobile al servizio dell'uomo e dell'ambiente Oggi quel sogno inizia a prendere forma e ci aiuta a immaginare un domani migliore Oggi sappiamo che non è importante quanto sei grande tu, ma quanto è grande il tuo sogno